buongiorno a tutti i miei cari amici e miei cari amiche dal vostro carissimo amico giaccomitrona buongiorno oggi 21 gennaio 2023 buongiorno a tutti i miei cari amici iscrivetevi al mio canale condividete il video se vi è piaciuto e mettete un like buongiorno a tutti dal vostro carissimo amico giaccomitrona iscrivetevi al mio canale giaccomitrona iscrivetevi al mio canale giaccomitrona iscrivetevi al mio canale giaccomitrona buongiorno a tutti dal vostro carissimo amico giacca temperatura freddissimo vento gelito cielo un voluto buongiorno a tutti i ragazzi fa freddo stamattina fa molto E' molto raramente che nevico, comunque fa freddo. Vi faccio vedere il cielo. Buongiorno a tutti, la vostra è bellissima amica, buongiorno a tutti. Ciao ciao!